come si è svolto il torneo di roma tenuto sin data 6 e 7 agosto quanti giocatori sono a corsi per darsi battaglia a colpi di chiave e chi si è aggiudicato il sapere supremo contenuto nella cripta dell'arcada in food nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale lo scorso fine settimana nella capitale si sono svolte due giornate di torneo dove il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo ha svolto il ruolo di protagonista assoluto 23 forgiatori di cui 21 provenienti da ogni parte d'italia e due a rappresentare la patria dei diritti dell'uomo ovvero la francia si sono dati battaglia senza esclusione di colpi regalandoci uno spettacolo davvero unico e pieno di colpi di scena se vorrete scoprire di più su come sia andata seguendo le gesta di coloro che si sono susseguiti in diretta al tavolo streaming in descrizione vi lascerò il link alla live dove per ben nove ore più o meno abbiamo seguito attentamente ogni strategia dei vari forgiatori che hanno concorso alla vittoria finale nella seconda giornata di torneo ospitata tra le mura a 16 bit dell'archeda in food prima di iniziare se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica vi consiglio di visitare fantasia store dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta in descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti in più per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5 per cento su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice crogiolo 5 utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari gcc e se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno la consegna sarà a casa vostra in 24 48 ore cosa state aspettando se cercate i migliori articoli fantasia store sarà la risposta in più volevo invitarvi ad iscrivervi al canale dato che molti di voi guardano i video dell'arconte del crogiolo ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti pensate che se tutti voi lo faceste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti quindi il vostro supporto è fondamentale datemi una mano a far crescere la community basta un singolo click ed ora scopriamo assieme come si è svolto il torneo live capsus weekend organizzato dal keyforge network andiamo a dargli un'occhiata come già accennato ben 23 forgiatori si sono incontrati nella capitale per passare un fine settimana spensierato e all'insegna del gioco e come sempre è stato per me un vero piacere rincontrare persone che non vedevo da tempo per l'occasione questo è stato il primissimo torneo dove la struttura del canale è stata impiegata attivamente per garantire alla community che guardava da casa una streaming di un livello piuttosto discreto da migliorare ovviamente ci sto lavorando su personalmente e così dopo una mattinata a commentare una svizzera a quattro turni formato control the triad portata a casa da un david papagliani in grande spolvero per lui un 4 a 0 secco grazie ad un mazzo che si rivelerà la gran sorpresa del torneo la pausa pranzo è arrivata e come sempre l'arcade ha saputo stupire con i suoi piatti che non lasciano mai insoddisfatti riu l'hamburger oramai che preferisco tra tutti e di seguito la sbriciolata consigliatami direttamente dallo staff hanno coccolato le mie arcontesche papille gustative caricandomi per una seconda sessione di streaming pomeridiana la top 8 ha visto invece un formato tripletta dove in finale abbiamo avuto lo stesso david confrontarsi con l'onnipresente dammat no no arcont aspetta no no aspetta no no guarda in semifinale dammat è stato sconfitto da giuseppe traina traina giuseppe traina grande rivelazione del torneo giuseppe traina grazie infinito steve figurati ah stefano viene un po signori stefano del canale black orange passate sul loro canale per contenuti di grandissima qualità vi lascerò come sempre il link in descrizione tornando a noi in un match che ha visto ben pochi spunti di reazione per traina che comunque ha svolto una finale davvero incredibile il duo a bishop generale di sabbia rischiosa e la già menzionata sorpresa rappresentata dall'unico che i lock of tramplain the pot che ha chiuso la giornata con un secco 7 a 0 hanno permesso a papai anni di aggiudicarsi il gradino più alto del podio vincendo il main event control the triad tripletta il vincitore del side event arconteno limit invece è stato eccoedo che con il suo più che celebre prastari ha dominato sui forgiatori avversari chiedo scusa per non averlo ripreso attivamente durante il ritiro del trofeo ma sono stato piuttosto impegnato in live in quei momenti e devo ringraziarvi di cuore dato che siete stati molti a seguire la diretta e a farmi compagnia durante le 9 ore o più di streaming che potrete trovare qui sul canale come sempre siete stati dei magnifici compagni di viaggio mentre vincitore della classifica generale delle due giornate di torneo e colui che si è portato a casa l'ambitissimo premio rappresentato dalla plancia di gioco Mibrio con più di 4000 giochi arcade al suo interno è stato Davide Giorgini date un occhio a quell'uomo perché da quando ha iniziato a fare sul serio ha dimostrato all'intera community italiana ed estera di saperci davvero fare e sono certo che si ritaglierà uno spazio proprio nel palcoscenico competitivo di alto livello del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo questo è stato solo un piccolo recap di domenica dato che ho potuto presenziare solamente per una singola giornata di torneo ma nonostante ciò ho notato che la community è forte e pronta a far ripartire il gioco al meglio anche se da quel che ho visto non si parlerebbe di una ripartenza ma bensì di un'attesa dato che molti forgiatori in loco, me compreso hanno più volte menzionato il sesto set di Keyforge durante le conversazioni e ci sta dato che da quando la Ghost ha ripreso in mano il progetto le aspettative dei vari forgiatori di veder tornare il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo a calcare i tavoli dei centri ludici hanno ripreso vita e la voglia di creare chiavi durante il torneo mi ha mostrato quanto sia pronta l'intera community a sostenere il progetto ancora e ancora e voi avete appreso delle strategie dai forgiatori che si sono susseguiti al tavolo streaming rubandole con gli occhi? come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video